Il caolino accusa l'Urzigstan per quello che ne ha detto. Un attacco brutale e identificabile ha chiesto ai leader mondiali di identificare l'ULF come un'organizzazione terroristica. Da anni l'Urzigstan è terreno fertile per i terroristi. E finora cosa è stato fatto? Mi rimpe di niente. L'ULF è ancora a piede libero e per quanto ne sappiamo potrebbe avere armi in grado di colpire Mosca. Come possiamo ritenerci al sicuro? L'Urzigstan per l'Urzigstan per i terroristi. La famiglia è tutto. Mia figlia sta crescendo. Sua figlia Arabia? E lei come... Tuo figlio Tariq. Tuo marito Gali. Ci conosciamo. Io conosco te, Samara. Hai combattuto nell'ULF. Contro i rossi? Sì. Anni fa. Anni fa. Ascolta e non parlare. Ci stiamo prendendo questo aereo. L'equipaggio e la sicurezza sono tutti dei nostri. L'Urzigstan per l'Urzigstan per l'Urzigstan. Forza. In piedi. Ascolta e non parlare. Ascolta e non parlare. Non so. No, 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 no. Vi creda, ci sono altri. Ascolta e non parlare. Ascolta e non parlare. Scendiamo. Dammi il giubbotto. Ciao, Samara. Oggi hai superato le mie aspettative. Che ti credi di essere? Riguarda quello che sei tu, Samara. Questo cos'è? La storia. Toglimelo di dosso, brutto figlio di puttana! Sarai un'eroina per quello che stai facendo. Non ti crederà nessuno. Non sono una terrorista. No. Sei una cittadina ispirata da Farakarim a combattere la Russia. Lotti per la libertà. Tu sei russo. Quest'aereo è pieno di russi. Come puoi uccidere la tua stessa gente? Non li uccido io. Ma tu? Sopra i 2500 metri. Nell'Urzikstan, Samara. Ok. Passare tracce. Passare tracce. No. Guarda. Sopra i 2500 metri. Vai a fare brava. Sono massaccia. Sono massaccia. Non può andare a fare un po' ma... Non può andare a fare un po' ma... Non può andare a fare un po' ma... Aiutami. Dammi il cellulare. Aiutami. Che è questo? Dobbiamo disinnescare la bomba. No! No! Prendere quel telefono! Presto! Chi va a me! Chi va a me!